Ok, allora iniziamo. Buonasera e benvenuti al quarto incontro del ciclo Ripartire da Marx di Roberto Fineschi, organizzato dalla campagna Non Restiamo e dalla Rete dei Comunisti. Allora, il ciclo è composto da sei incontri e quello di oggi si occuperà appunto del Marx economista, sempre fra virgolette, per non etichettare Marx all'interno appunto di etichette che non renderebbero sufficiente la complessità del suo pensiero. Quindi appunto si intitola Marx economista, trasformazione del valore in prezzi e problemi del terzo libro, continuando appunto il discorso iniziato ieri sulla differenza fondamentale fra valore lavoro e merce denaro. I prossimi incontri ricordo brevemente che si terranno il quinto e il sesto, si terranno giovedì 19 maggio alle ore 21, sempre qui in Libreria Comunardi, venerdì 20 maggio alle 18, sempre qui appunto in Libreria. Quindi ringrazio ovviamente la Libreria Comunardi per darci lo spazio per questo ciclo, ringrazio Roberto Fineschi e i presenti e ovviamente tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo ciclo con l'offerta libera tramite il link del crowdfunding che è stato diffuso in questi mesi. Come già abbiamo ripetuto ieri, dato che comunque l'attività politica ha un costo, chi fra i presenti o chi segue il ciclo online non ha ancora fatto un'offerta e volesse farle ovviamente il benvenuto. Vi invito ancora a seguire la pagina Facebook della campagna Noi Restiamo e della Rete dei Comunisti e il blog di Roberto Fineschi intitolato Marx Dialectical Studies. Inoltre possiamo ovviamente inviarvi le letture in preparazione agli incontri del ciclo per mail e le mail a cui potete scriverci sono non restiamotorino-gmail.com e rdc.torino-gmail.com Bene, allora credo di aver... E aggiungo solo una cosa al volo, visto che siamo qua e siamo in tema, il 16 maggio alle ore 21 qui alla Libreria Comunardi ci sarà un incontro con Efraim Cevarria che è un professore all'Università di Pinar del Dio di Cuba ed è membro del Partito Comunista Cubano e Luciano Vasapollo per discutere della situazione di Cuba diciamo sia dopo il congresso del Partito Comunista che si è appena tenuto e le prospettive diciamo perché come sapete Cuba sta attraversando una fase molto importante di evoluzione per cui appunto l'appuntamento Pala 21 ovviamente chi fosse interessato a partecipare può farlo Bene, allora iniziamo pure Bene, allora buonasera di nuovo a chi c'era ieri anche ai nuovi venuti ci tengo di nuovo a rinnovare ringraziamenti agli organizzatori, agli media che ci ospita e a chi sto partecipando e detto questo insomma procedo con l'argomento di oggi che ovviamente è strettamente collegato a quello di ieri per riprendere il discorso brevemente la tesi che sostenevo ieri è che a mio parere nel dibattito tradizionale sopra la teoria del valore di Marx e poi sul problema della trasformazione la questione non è tanto cercare soluzioni alternative a quelle che sono state proposte nel dibattito tradizionale insomma che sono tra l'altro estremamente sofisticate insomma non si tratta di come dire sminuirne svalutarle come sciocchezze tutt'altro non è assolutamente quello che penso la proposta che facevo io è che a mio parere più che risolvere diversamente il problema è legato a una impostazione difettosa del problema cioè diciamo queste soluzioni anche molto sofisticate che si è cercato di sviluppare per risolvere il problema della trasformazione in realtà avevano alla base una malposizione del concetto di valore e cercavo di spiegare ieri che la questione non va contestualizzata tanto partendo dal valore lavoro che insistevo nel precisare che è una categoria che Marx non ha mai utilizzato in nessuna delle sue opere ma dalla dialettica di merce e denaro su questa vedere come impostare diversamente anche la questione della trasformazione queste tre parole diciamo più o meno quello che argomentavo ieri per affrontare questa questione di nuovo io ho cercato di basarmi sulla nuova edizione critica perché come dicevo la prima volta i problemi della pubblicazione del capitale sono storicamente stati legati alla come dire in qualche parola all'incompiutezza di quest'opera o meglio ai diversi livelli di compiutezza dei tre libri come dicevo sempre nel primo incontro quello meno compiuto è proprio il terzo in realtà che viene dato alle stampe per ultimo ma a cura di Engels negli anni 90 ma in realtà come stesura da parte di Marx rispetto al primo, al secondo e al terzo è quello più vecchio cioè quello che Marx ha meno rielaborato perché la sostanza del manoscritto principale su cui Engels ha lavorato è sostanzialmente l'ultima parte del manoscritto 63-65 e quindi andiamo indietro di quasi 20 anni rispetto all'ultima edizione del primo libro del capitale che Marx insomma come dire Marx è morto nell'83 i materiali per la terza edizione più o meno sono della fine degli anni 70 quindi come dire se la cosa più raffinata più finita che ha fatto è il primo libro del capitale la distanza di questo manoscritto è di quasi 20 anni più o meno come invecchiamento ripeto non è assolutamente mia intenzione tirare la croce addosso al povero Engels che si trovò in una situazione estremamente complessa perché aveva molti manoscritti otto manoscritti per il secondo libro e aveva sostanzialmente alcuni di questi più elaborati insomma come dire Marx aveva cercato di scrivere il secondo libro anche se non lo ha compiuto però aveva provato con più insistenza a farlo mentre per il terzo libro sostanzialmente dopo il 65 un po' lo lascia da parte ci sono ulteriori manoscritti ma come dire non sono mai riesposizioni complessive e soprattutto sono manoscritti di breve estensione diciamo corti che riguardano alcuni soggetti in particolare ma che diciamo con disappunto di tutti quelli che si sono occupati di questo tipo di problemi non parlano del problema della trasformazione non parlano della caduta tendenziale non parlano del credito cioè non parlano delle cose che poi sono quelle che più sono interessate diciamo nel dibattito successivo e quindi diciamo il povero Engels si è trovato con questi manoscritti vecchi sostanzialmente non non rielaborati neppure aggiornati terminologicamente al stato di avanzamento del primo libro e doveva pubblicare un libro compiuto nel far questo diciamo si può come dire accentuare più o meno la qualità del suo lavoro secondo me ha fatto un lavoro abbastanza onesto non ha fatto una cattiva edizione però diciamo i problemi oggettivi legati a pubblicare come compiuto un libro che non è compiuto già nel farlo diciamo già nel dire che questo libro era pronto per essere pubblicato e che aveva come dire l'autorizzazione di Marx alla pubblicazione già solo questo sarebbe un atto pesantissimo perché se Marx l'ha pubblicato evidentemente non riteneva fosse abbastanza fosse idonea alla pubblicazione nel fare l'editore ha anche ripeto con la buona volontà di fare un libro compiuto alcune parti le ha incisivamente compiute lui in particolare alcuni interventi hanno poi pesato sulla ricezione del libro per esempio anche nella questione della caduta del saggio tendenziale la caduta tendenziale del saggio profitto la frase in fondo e alla fine tenderà a cadere il 90% delle volte c'era aggiunto Engels non c'era nel manoscritto ma dove è sostanziale però dove è proprio intervenuto in maniera massiccia è nella parte sul credito e il capitale fittizio lì sostanzialmente ha proprio impedito di capire che cosa voleva fare Marx perché in tutti gli indici che Marx redige a partire dal 57 fino alla fine l'ultima parte della teoria del capitale era sempre credito e capitale fittizio capitale azionario insomma aveva a che fare con questa tematica e anche nel manoscritto il titolo dell'ultima parte è credito e capitale fittizio nella versione di Engels questo titolo diventa un titolo cioè non è più il titolo generale di tutta questa parte ma diventa un titolo accanto ad altri accanto ad altri cosa ad altri capitoli che in gran parte Engels si inventa nel senso che li costruisce c'era tutta una parte di questo manoscritto che Marx aveva significamente intitolato di confusione per dare l'idea a quanto forse chiara in sua mente in realtà era addirittura impaginata diversamente sostanzialmente una raccolta di citazioni sulla tematica del credito che lui voleva rielaborare ma che poi non l'ha fatto e Engels nella prospettiva di pubblicare tutto di questi materiali ha fatto proprio dei capitoli li ha montati insieme inserendo un piccolo cappello poi attaccando un pezzo di citazione poi facendo lui un passaggio di tre righe attaccandoci insomma insomma in questo modo ha fatto 11 capitoli circa del terzo libro sono questo tipo di collage e il credito viene annaquato tra virgolette in questa lista e quindi si perde proprio la prospettiva che questa fosse l'ultima parte del comunque oggi non parlerò molto di questo ma insomma mi sembrava il caso di menzionarlo perché comunque è utile per introdurre il tema fondamentale che secondo me permette di considerare diversamente il problema della trasformazione che è la questione dei livelli di astrazione allora che cosa si intende con i livelli di astrazione diciamo i diversi le diverse fasi in cui attraverso le quali diciamo Marx sviluppa la sua teoria che sono diciamo tutte caratterizzate da alcune clausole di astrazione diciamo all'interno di un livello di astrazione l'analisi si sviluppa presupponendo che diciamo mettendo dei limiti al più complesso la più complessa analisi della teoria che poi implicherà la rimozione di queste clausole di astrazione questo diciamo si rifà a quello che nella tradizione è stato il dibattito sul cosiddetto capitale in generale e il rapporto tra capitale in generale e concorrenza cioè il celeberio primo libro di Rosdolski Genesi e struttura del capitale poi successivamente in Germania ci sono stati altri autori che se ne sono occupati non tutti sono tradotti perché diciamo questo dibattito è importante e anche ha conseguenze su come trattare il problema della trasformazione dunque perché il punto è a quale livello di astrazione dobbiamo analizzare la trasformazione dei valori in prezzi dobbiamo considerarlo a livello del capitale in generale o della concorrenza sostanzialmente questa è la questione di fondo Marx nello sviluppo nelle varie stesure della sua teoria diciamo cambia adatta rimodula questi livelli e questo nel manoscritto del terzo libro del capitale avrà delle conseguenze significative che cos'è il capitale in generale tanto per iniziare di lì nei vabbè qui Marx ha ancora nella mente le categorie egheliane del giudizio e del sillogismo perché nei primi indici che redige di questa della struttura del capitale negrondrisse addirittura ancora in titola algemeine universalità particolarità singolarità che è la distinzione della teoria in maniera diciamo un po' schematica tra virgolette diciamo questa partizione come dire non riflette una l'effettivo sviluppo della teoria ma sono come dire concetti che lui mette là per organizzarsi le idee e poi infatti scrivendola la teoria modificherà alcune cose che inizialmente erano diverse in questi indici iniziali il capitale in generale in questa prima formulazione era sostanzialmente l'idea era di vedere come un qual è la dinamica di un di un capitale che però era come dire un capitale tipico vedere un ideal tipo del capitale che quindi anche nella sua individualità era generale come diciamo se considerassimo l'uomo in astratto che poi alla fine del capitale in generale poneva i suoi presupposti e quindi poteva moltiplicarsi in molti capitali questa divisione questa moltiplicazione in molti capitali era l'abbrivio per analizzare la teoria della concorrenza e e quindi della dinamica della concorrenza fra i molti capitali cioè l'idea era di avere un capitale astratto in generale diciamo un ideal tipo del capitale e poi vedere una volta che avevamo posto tutte le categorie per definire che cosa è un capitale vedere come i molti capitali invece come molteplicità di questo ideal tipo cioè tutti i rappresentanti di questo una moltitudine di questo ideal tipo interagivano interagivano fra se la clausola d'astrazione un'altra delle clausole d'astrazione fondamentali di questo livello era l'idea che appunto non c'è la concorrenza e quindi non essendoci la concorrenza non c'è neppure il problema del realizzo Marx non si occupa qui di quali effetti ha la effettiva o non effettiva realizzazione del prodotto del processo di produzione in forma capitalistica che tipo di conseguenze ha il passaggio attraverso la circolazione sulle determinazioni di capitale stesse a questo argomento si sarebbe dedicato nel capitolo sulla concorrenza scrivendo il libro qui ci sono delle modifiche perché Marx in realtà cambia in parte idea si rende conto che un capitale in generale deve immediatamente essere presentato come una molteplicità di soggetti proprio perché c'è la merce la merce è un prodotto per lo scambio e quindi di fatto il singolo capitale come dire per pensare le sue condizioni di riproduzione non posso non pensare anche le condizioni di riproduzione degli altri che gli vendono i mezzi di produzione quindi in realtà lui articola il concetto di accumulazione alla fine in due livelli prima del singolo capitale poi dei molti capitali negli schemi sulla riproduzione in generale insomma diciamo questo capitale in generale gli diventa enorme tra le mangi la maggior parte di quello che studia alla fine è questo capitale in generale che sarà già uno molti che sarà già accumulazione che sarà già riproduzione sociale complessiva però comunque mantenendo l'idea che ancora non c'è la concorrenza praticamente anche negli schemi della riproduzione sociale complessiva Marx non studia gli effetti della concorrenza anche se abbiamo molti capitali ma studia sotto quali condizioni materiali e formali quali condizioni materiali e formali saranno necessarie affinché la riproduzione possa avvenire ma gli effetti del problema della realizzazione delle merci ancora non sono analizzati e insomma lo dice esplicitamente ci sono dei passaggi sia nel primo capitolo quando parla dell'accumulazione sia nei schemi della riproduzione sociale complessiva dice ancora non consideriamo questa cosa qua la vedremo in successione l'evidenza di questo è che ancora non abbiamo il concetto di profitto il concetto di profitto si sviluppa solo a partire dal terzo di valutità che è la forma diciamo fenomenica in cui il plusvalore si si presenta quindi dove sta il problema della trasformazione il problema della trasformazione in questa diciamo per come poi lo si presenta nel nono capitolo del terzo libro ora non so se avete familiarità con questi con questi testi praticamente e se avete familiarità più in genere col problema della trasformazione anche io ho dato per scontato di sì posso assumere che allora scusate non ci ho pensato il problema tradizionale della trasformazione consiste nel nel ritenere come accennavo ieri che tra il primo libro e il terzo libro c'è una contraddizione insanabile perché mentre nel primo libro gli scambi avvengono sulla base del valore e questo funziona diciamo poi non funziona più nel terzo libro dove gli scambi non avverrebbero più sulla base del valore ma dei prezzi di produzione per come Marx imposta il passaggio dal valore ai prezzi di produzione nel nono capitolo del terzo libro ci sarebbe insomma per come la cosa è formulata nel dibattito tradizionale ci sarebbe come dire un circolo vizioso per cui praticamente il modo che Marx utilizza per calcolare il profitto medio in realtà presupporrebbe già l'esistenza del profitto medio sostanzialmente praticamente nel dibattito tradizionale come dire Marx non calcolerebbe il profitto medio anche negli input ma solo negli output cioè nell'esito e non nelle premesse del processo produttivo e la soluzione proposta tradizionalmente è stata quella di elaborare dei sistemi di determinazione simultanea di input ed output il più famoso dei quali è sicuramente lo di Sraffa e poi nel Steedman nella scuola successiva c'è un passaggio in cui Marx stesso dice ammette diciamo che c'è questo problema negli input non l'ho calcolato ma si vedrà insomma e in realtà insomma poi nel dibattito tradizionale questo si vedrà non funziona perché se questi non si può calcolare l'output con il profitto medio se già nell'input non lo abbiamo sostanzialmente e quindi ripeto questa contraddizione insanabile implicherebbe che sostanzialmente tutta la teoria è fallace perché è fallace nella sua spina dorsale tra virgolette e quindi insieme alla mancata trasformazione viene meno la teoria dello sfruttamento insomma diciamo tutte le categorie che poi hanno anche un riverbero politico verrebbero a mancare e quindi anche nel dibattito tradizionale il grande sforzo di mostrare che invece la contraddizione non c'era come scopo non ultimo aveva legittimare anche il conflitto sociale io ripeto questo tipo di approccio secondo me per come si è sviluppato sostanzialmente non può essere altrimenti ci sono altri tentativi di risolverle in maniera più complessiva come la new solution anche in Italia Gattei per esempio in sintonia con questa interpretazione ripeto secondo me invece va reimpostata insomma è meglio impostarla diversamente e quello che stavo dicendo era per spiegare perché va reimpostata e come secondo me va reimpostata quindi tornando riprendendo il discorso che facevo un accenno a come la trasformazione è impostata nel nono capitolo del terzo libro c'è Gianni Grundrisse e qui sostanzialmente per calcolare il profitto medio quello che si fa è sommare tutti i profitti e dividerli per il numero dei capitali attivi cioè sommare tutti i profitti dei capitali attivi che saranno diversi perché hanno diversa composizione organica cioè una diversa componente di spesa in capitale e in forza lavoro e quindi produrranno una grandezza di valore diversa che sarà a sua volta un profitto diverso e quindi li sommiamo tutti li dividiamo per il numero dei capitali impiegati abbiamo il profitto medio che poi sommiamo al costo di produzione per avere il prezzo di produzione perché è interessante che già Negrundris e Marx imposti l'argomento in questi termini perché Negrundris sostanzialmente e Marx non si occupa della concorrenza il grosso il tema sostanziale di questo manoscritto è il capitale in generale si occupa sostanzialmente di tematiche che al tempo lui pensava stessero nel capitale in generale e quindi questo tipo di trasformazione impostata in questi termini effettivamente richiede la concorrenza cioè è un risultato che otteniamo grazie all'analisi dell'interazione intrasettoriale ed extrasettoriale dei capitali a mio parere no perché quello che facciamo è una semplice operazione algebrica di somma e divisione dei profitti che di per sé come dire in un certo senso presuppone la concorrenza nel senso che sono molti capitali ognuno al suo profitto però in nessuna maniera analizza come questi capitali interagendo producano effettivamente un saggio medio del profitto e ciò che c'è quindi questo è un tipo di trasformazione questo approccio al problema della trasformazione che già nella formula e nella formulazione che troviamo nel nono capitolo del terzo libro già troviamo trovavamo più o meno in termini simili nei Grundrisse secondo me sta a un livello di astrazione che di fatto la concorrenza non la considera la presuppone astrattamente ma di fatto non analizza le dinamiche effettive della concorrenza e sostanzialmente non considera i problemi di realizzo delle merci cioè il passaggio della produzione attraverso la circolazione e infatti Marx non è soddisfattissimo di questa soluzione e qual è il passaggio successivo? Lui sviluppa sviluppa la teoria del valore iniziando a considerare il passaggio attraverso la concorrenza nelle cosiddette teorie sul plus valore cioè nel manoscritto 61-63 studiando esponendo e criticando la teoria di Riccardo per la prima volta lui sviluppa una categoria importantissima che è il valore di mercato come determinazione fondamentale del valore diciamo come ampliamento della teoria del valore che cosa implica il valore di mercato per la prima volta come dire è la rimozione della clausola di astrazione che avevamo nel capitale in generale per cui presupponevamo che quello che si produca si realizzi cioè che domande offerte praticamente magicamente non magicamente insomma per astrazione siano con bacino e va a vedere come il passaggio attraverso la circolazione determini conseguenze anche sulla determinazione delle grandezze di valore e qui Marx insiste proprio sul fatto che se una cosa non è utile non ha valore cioè se la mia produzione individuale non è socialmente necessaria anche se io ho lavorato x ore per la produzione di quello queste x ore sono perse non valgono come grandezza di valore perché di nuovo il crogiolo della socializzazione è il passaggio in questo sistema di produttori indipendenti e individuali è il passaggio attraverso la circolazione la validazione sociale della mia grandezza di valore privata è lo scambio sostanzialmente e di nuovo perché questo non appare anche nel primo capitolo del capitale perché lì siamo ad un livello di astrazione per cui si assume che domanda è offerta con bacino se io assumo che domanda è offerta con bacino il problema del passaggio attraverso la circolazione è sostanzialmente rimosso è messo tra parentesi perché come dire io ho la garanzia che quello che faccio è venduto quindi automaticamente il mio lavoro individuale è socialmente necessario ma questo chiaramente è un'astrazione che non potrà essere mantenuta in eterno perché il modo di produzione capitalistico proprio essendo il modo di produzione che generalizza al massimo la produzione di merci merci mercato è la stessa radice insomma la socializzazione dovrà passare attraverso il mercato ma questo Marx lo dice più volte anche nel primo capitolo dice presupponiamo che tutto si realizzi quando si smette di presupporre questo Marx si trova nel problema come dire a vedere come il passaggio attraverso il mercato e la mancata realizzazione incida sulla determinazione delle grandezze di valore che è in genere uno dei dogmi che non si accetta nel marxismo perché qual è come dire il rischio e la critica che automaticamente viene che sia la circolazione a determinare le grandezze di valore nella produzione cercherò di spiegare come Marx cerchi di non cadere di essere coerente con la sua idea che è sostanzialmente la produzione a determinare grandezze di valore però includendo il problema della realizzazione come elemento di questa di questa trattazione allora ripeto nel manoscritto 61-63 lui per la prima volta tira fuori il valore di mercato come nuova determinazione del valore che non c'era prima dove mettiamo in quale livello di astrazione inseriamo la trattazione di questa problematica evidentemente non possiamo metterla nel capitale in generale perché lì la clausola di astrazione era che domande offerte combaciassero allora dove lo mettiamo lo mettiamo chiaramente nella concorrenza chiaramente fino a un certo punto perché quando Marx finisce di scrivere questo manoscritto nel 63 diciamo alla fine del 62 redige un paio di indici del primo e dei futuri primo e terzo libro e scrive anche una famosa lettera a Kugelman dove dice dove fa un po' il quadro di cosa ha fatto e di cosa vuole fare e a Kugelman dice sostanzialmente che finalmente ho capito come lo voglio fare considerate che ha già scritto migliaia di pagine che sono migliaia di pagine che il bano scritto il 63 sono migliaia di pagine a questo punto le dice ho capito come scriverlo e sostanzialmente mi occuperò solo del capitale in generale questo è quello che dice mi occuperò solo quello che gli inglesi chiamano principles of political economy e non e non considererò la concorrenza il credito e le altre categorie più più concrete quindi e se confrontiamo diciamo questa intenzione esplicitata in questa lettera con questi indici che menzionavo della fine del 62 vediamo che è abbastanza coerente perché se confrontiamo questi indici poi con la struttura del manoscritto del terzo libro del capitale vediamo che mancano le parti che manca la rendita che manca il capitolo sul la sezione sul profitto medio eccetera pare pare non considerare la parte sulla concorrenza e anche la parte sulla caduta del saggio del profitto pare ridursi alla prima parte relativa solo alla composizione organica lettera Kugelman Kugelman della fine del 62 ancora il giorno preciso non me lo ricordo posso cercare aspetta sta tutto in questa lettera no allora tanto vi dico la lettera di mondiale e negli indici giusto lettera Kugelman non ce lo scrivo abbiamo anche questo detto qui non ce lo scrivo per la fine del 62 e gli indici sono nel manoscritto 61-63 sempre più o meno in questo periodo fine del 62 mi sa che invece questi sono pubblicati nelle periodi del plus valore come comunque nel libro quello giallo del pdf lì ci sono i riferimenti precisi ok quindi dicevo praticamente quello che sia da come dal contenuto di questa lettera da come redige questi indici pare che lui voglia occuparsi solo del capitale in generale e anche per come in un'altra lettera a Kugelman per come parla della struttura del capitale dopo che ha deciso come articolarlo l'idea sembra simile cioè praticamente secondo questa concezione il primo libro del capitale doveva includere il primo e il secondo libro cioè il primo e il secondo libro dovevano apparire come insieme sostanzialmente il secondo libro doveva contenere il terzo libro è un po' caotica però insomma e poi il terzo libro doveva essere il libro sulla storia delle teorie questo prima che pubblichi qualcosa anche questo è un'altra lettera a Kugelman del 66 e quindi cosa sembra che il primo e il secondo libro parlino dell'essenza cioè dell'articolazione della teoria prima che si arrivi al profitto sostanzialmente alle forme fenomeniche mentre il secondo libro che sarebbe il terzo doveva parlare delle forme fenomeniche e lui alla fine del 62 pensa che per far questa cosa può semplicemente considerare il capitale in generale il capitale in generale sarebbe alla fine la trattazione di questo escluderebbe la concorrenza escluderebbe il credito e escluderebbe sostanzialmente la rendita ci sono anche sempre in questo manoscritto del 63 dice sì la concorrenza così è solo in astratto diciamo io qui ne parlo solo come illustrazione usa proprio questa illustrazione e la mette in opposizione a entwicklung cioè allo sviluppo entwicklung significa l'articolazione teorica diciamo logica della struttura del capitale invece illustrazione e parla anche sempre in questo periodo in un paio di lettera ad Engels della rendita come illustrazione cioè quello che sembra come dicevo maturare è che tutte queste parti che poi invece saranno nel terzo libro lui non ce le voleva mettere o ce le voleva mettere come illustrazioni cioè come parti come appendici parti accessorie che non riguardavano la struttura effettiva della teoria nel 63 65 si mette a scrivere questa cosa inizia a scrivere per la terza volta più o meno tutta la teoria con questa intenzione in testa cioè con questo piano di questi tre libri poi in realtà sarebbero quattro con la parte sull'essenza la parte più fenomenica eccetera quali sono i problemi quando lui si mette a scrivere il manoscritto del terzo libro secondo me si rende conto che se vuole esporre anche a un livello molto astratto molto generale il livello fenomenico del modo di produzione capitalistico non può non considerare almeno a grandi linee la teoria della concorrenza non può non considerare almeno a grandi linee la teoria del credito non può non considerare almeno a grandi linee la rendita perché si rende conto come queste categorie alla fine incidano in maniera sostanziale nella determinazione della grandezza di valore quindi dei prezzi di produzione eccetera eccetera e quindi che cosa fa prova a mettercele cioè cerca di operare nel terzo nel manoscritto del terzo libro una sintesi di questa complessa articolazione in di questi diversi livelli di astrazione facendo un gran pastrocchio questa alla fine cioè non riuscendo di fatto a mostrare come si passi da dall'un livello all'altro il problema della trasformazione nei termini tradizionali cioè il problema della trasformazione si colloca in questa in questa problematica perché per esempio il problema della trasformazione il problema della caduta tendenziale proprio i problemi classici della teoria di Marx proprio quelli che sono stati al centro del dibattito più acceso secondo me trovano come dire una spiegazione un po' della poeticità e della problematicità nel testo stesso di Marx perché Marx non finendo questo manoscritto perché questo è il punto un manoscritto che non è compiuto si trova ad avere uno accanto all'altro lo stesso argomento trattato a due livelli di astrazione diversi il problema della trasformazione per esempio abbiamo il nono capitolo in cui si fa di nuovo questa semplice operazione semplice questa operazione di somma dei profitti totali divisione per il numero dei capitali attivi e calcolo algebrico diciamo di un profitto medio che poi si va a sommare a costi di riproduzione che di per sé non solo non la richiede ma in nessun modo è conseguenza dell'analisi degli effetti della concorrenza è solamente un'operazione algebrica dato una pluralità di soggetti dato che hanno profitti diversi li si somma tutti e li si divide qui che cosa vuol dire concorrenza qua e non è un caso che la parola concorrenza non ci sia nel capitolo c'è solo una volta in cui dice nel prossimo capitolo parla della concorrenza nel decimo capitolo che anche nel dibattito tradizionale è stato più o meno ignorato abbiamo una diversa soluzione del problema trasformazione abbiamo per la prima volta cioè per la prima volta diciamo per la seconda volta dopo la prima volta che abbiamo visto nei monoscritti 61-63 abbiamo una determinazione del prezzo di produzione attraverso il valore di mercato cioè abbiamo una categoria nuova del valore di mercato che è determinante poi nella determinazione dei prezzi di produzione questa categoria del valore di mercato è un altro mondo perché come dire non è una semplice operazione algebrica di somma e divisione ma mostra la dinamica della concorrenza intrasettoriale ed extrasettoriale che produce uno spostamento delle grandezze di valore una dinamica sia intrasettoriale che extrasettoriale delle grandezze di valore per cui porta alla determinazione non di un prezzo non di un valore per il profitto medio per tutti non di un prezzo di produzione determinato così ma di una dinamica di prezzi e di uno spostamento di capitali che fa sì che alcuni produttori realizzino effettivamente il profitto medio ma che altri non lo realizzino perché se noi in realtà assumessimo che tutti hanno il profitto medio finirebbe la concorrenza cioè finirebbe lo stimolo del passaggio intrasettoriale extrasettoriale tra i capitali e la cosa diciamo interessante è che diciamo nel dibattito tradizionale il problema era la divergenza tra le grandezze di valore individuali e sociali perché dopo la trasformazione una volta che diciamo i prezzi sono ricalcolati sulla base del profitto medio i valori individuali non sono più quelli originari ma sono rideterminati e quindi come dire c'è uno spostamento di pezzetti di valore fra capitali per cui alla fine tutti hanno un profitto medio simultaneamente invece nella dinamica del decimo capitolo abbiamo la temporalità cioè abbiamo che questo movimento di adeguamento alle grandezze sociali avviene nel tempo e quindi quello che diverge non è il prezzo di produzione del valore individuale quello che diverge è il valore individuale e il valore sociale perché dice Marx in un certo momento saranno necessari x prodotti di un certo tipo al prezzo y non tutti quelli che producono questo bene avranno le stesse tecniche produttive e avranno lo stesso saggio del plus valore del profitto però e quindi qual è il valore il valore è quello della loro media cioè della media dei produttori di quel bene che la determinazione della grandezza di valore sociale di quel settore è dato dalla soddisfazione del bisogno ordinario questa è un'altra cosa fondamentale che si presenta a questo livello cioè l'idea che come dire esistano dei livelli di equilibrio di produzione standard che modificabili nel tempo che danno la misura della grandezza sociale del valore nel manoscritto Marx più di una volta introduce proprio il termine standard cioè tre o quattro volte dice lo standard lo standard per dire che ci sarà un livello in periodo dato che poi potrà cambiare nel tempo ma diciamo ci sarà un periodo un lasso di tempo in cui come dire si prevede un'ordinarietà della domanda che i produttori cercheranno di incontrare diciamo di azzeccare e quindi di come dire ex ante essere già socialmente necessari ma questo è un calcolo che è possibile che non è garantito diciamo che poi dovrà essere verificato sul mercato ma che però dà delle ipotesi di fattibilità basate su una su livelli di standard di domanda ordinaria tra virgoli i produttori che realizzano questo valore di mercato cioè il valore di mercato corrisponde al valore alle grandezze il prezzo di mercato che si realizza nel settore corrisponde alle grandezze di valore cioè quello che diverge il valore individuale da quello sociale ma il valore sociale effettivamente corrisponde alla determinazione sociale del valore invece nell'altra teoria abbiamo che praticamente nessun valore individuale che non c'è nessun tipo di corrispondenza invece in quest'altro modo abbiamo che il livellamento a un prezzo di produzione sarà un movimento nel tempo che alla fine farà sì che alcuni produttori saranno a livello sociale medio ma saranno a quel livello realizzando il loro valore non divergendo praticamente il prezzo di produzione è un prezzo di lungo periodo sostanzialmente tendendo verso il quale il valore sociale è effettivo non è alterato non è in contraddizione con la determinazione di grandezza dei valori ma si realizza effettivamente la grandezza di valori ho fatto parecchio complicato non so se è vagamente questo quindi la differenza i valori e prezzi corrispondono alla fine questo è la cosa il succo della frase dell'argomentazione cioè praticamente i valori tendenzialmente si spostano ma realizzando sempre i valori sociali quindi le grandezze corrispondono questo è possibile solo considerando il passaggio attraverso la circolazione e l'introduzione del valore di mercato che implica questa aggiunta diciamo questa maggiore complessità della teoria che implica livelli di standard movimento di livelli di standard che si determinano nella dinamica di produzione e realizzazione quindi nel lungo periodo sarà comunque la produzione a determinare qual è il livello di grandezza di valore però nella tendenza verso questo livellamento ci sarà il decisivo problema della realizzazione una critica possibile è dire che ci saranno fasi in cui di fatto qualcuno avrà un profitto ulteriore dovuto alla circolazione che non corrisponde a una grandezza di valore effettiva diciamo nei passaggi tra un settore e l'altro ma in realtà questo non è una violazione delle grandezze di valore perché è semplicemente un passaggio di ricchezza cioè un passaggio di grandezza di valore da una parte all'altra come se facessi una rapina praticamente questo non implica un aumento della grandezza di valore sociale ma implica solamente che in queste fasi di passaggio ci siano appropriazioni di grandezza di valore che impropie tra virgolette cioè non dovute a però non il mio maggiore profitto non è dovuto a un effettivo aumento della grandezza di valore sociale ma semplicemente al fatto che mi approprio di un pezzetto che in realtà aveva prodotto un altro ora capisco che l'ho fatta molto breve però insomma se qualcuno ha voglia la pazienza di entrare in questo tipo di argomentazione nel pdf che loro hanno è spiegata in maniera un po' più articolata come stanno insieme il nono capitolo e il decimo capitolo non stanno insieme semplicemente c'è anche nel dibattito tradizionale da questa da questa aporeticità si è usciti semplicemente ignorando il decimo capitolo se voi considerate studiate il dibattito predominante tradizionale il decimo capitolo non esiste il valore di mercato non esiste è semplicemente espunto dalla discussione cancellato quello che io cerco di dire è che la soluzione che abbiamo nel decimo capitolo è aporeticamente accanto a quella che abbiamo nel nono che però è migliore sostanzialmente perché è migliore perché di fatto è più coerente con l'idea di fondo dell'inizio del capitale del primo libro cioè che la merce attraverso la circolazione ci deve passare che la realizzazione del valore potenziale avviene effettivamente nello scambio che la grandezza di valore si manifesta solo nel suo specchio fenomenico del denaro e quindi solo nella loro unione effettivamente esiste questo concetto quindi in questo modo si ha un approccio diciamo potenzialmente una soluzione alternativa a questo problema che allo stesso tempo non ignora le difficoltà storiche che perché non è contraddittorio mentre l'altro è fino rispetto ai due livelli di attrazione dico migliore nella prospettiva di una coerenza generale della teoria cioè scarte il livello di attrazione diciamo il decimo capitolo si colloca al livello di attrazione della concorrenza che effettivamente a mio modo di vedere è il luogo in cui quell'argomento va trattato trattarlo nel capitale in generale di fatto è improprio e il problema tradizionale viene fuori proprio da questo sbaglio tra virgolette cioè dall'idea che si possa studiare la trasformazione semplicemente facendo questa operazione algebrica di somma e divisione come è stato fatto sostanzialmente d'altro canto è evidente che anche Marx lo fa cioè che anche Marx dà la bocca a farla in questo modo io non sto dicendo che chi nel dibattito storico ha seguito questa strada se l'ha inventata non è vero insomma e quindi la conclusione per quanto riguarda Marx è che questo punto è aporetico cioè lui ha lo stesso argomento trattato a due livelli di astrazioni diversi e non mostra come queste due cose stiano insieme però dal punto di vista invece mio che voglio utilizzare la teoria di Marx io dico che spiego perché c'è questa aporia perché lui è indeciso su che cosa fare sostanzialmente prima vuole fare solo il capitale in generale poi decide invece di metterci anche un pezzo della concorrenza e non riesce alla fine a metterli insieme e dovendo io diciamo scegliere una parte dovendo io decidere quale parte prendere per cercare di andare avanti preferisco cioè secondo me preferisco è preferibile perché è più coerente con l'impianto generale di merce denaro eccetera eccetera andare con il decimo capitolo cioè vedere come le categorie della grandezza di valore della forma di valore si sviluppano nella dinamica della circolazione delle merci nella forma della concorrenza lo stesso tipo di problema però capite se questo manoscritto è pubblicato come un libro finito la poria è un problema strutturale della teoria nel suo complesso perché il libro è finito io ho detto è compiuto io ti dico è compiuto male perché questo è aporetico e c'è questo problema e il tuo libro finito non funziona se invece abbiamo un manoscritto che è a un livello di lavorazione non primitivo però sicuramente non è compiuto che si colloca a un certo stadio dello sviluppo del lavoro di Marx eccetera eccetera queste aporie sono in parte presenti allo stesso Marx e infatti Marx non lo pubblica e per noi che vogliamo come dire far tirare fuori qualcosa dalla teoria di Marx per farne qualcos'altro per svilupparla diciamo tra virgolette secondo me è preferibile perché più coerente con l'impianto complessivo andare nella direzione del decimo capitolo sostanzialmente cercare di sviluppare queste parti più concrete la concorrenza poi anche il credito eccetera eccetera proseguendo il lavoro di Marx sostanzialmente cioè vedere se è possibile andare avanti per questa strada lo stesso tipo di problema si presenta nella teoria della caduta tendenziale dove abbiamo una prima parte in cui sostanzialmente è spiegata sulla base dell'aumento della composizione organica del capitale e anche qui di fatto la concorrenza volendo non serve a niente perché io posso fare delle ipotesi che anche in caso di realizzazione totale di quello che viene prodotto comunque la composizione organica si modifica quindi non ho di nuovo bisogno della concorrenza e non è un caso che questa parte sia Gianni e Grundrisse Gianni e Grundrisse abbiamo un primo abbozzo del problema della caduta tendenziale sulla base della modificazione della composizione organica anche se ancora non è chiamata così ma perché? perché lì di nuovo si parla solo del capitale in generale la concorrenza non c'è nel terzo libro abbiamo questo pezzetto e poi abbiamo la parte dopo quella sulle controtendenze eccetera eccetera in cui di fatto Marx si mette a studiare un abbozzo di teoria del ciclo e facendo questo chiaramente ai problemi di realizzazione ai problemi di passaggio attraverso il mercato e di nuovo queste due parti stanno una accanto all'altra nel manoscritto senza una effettiva mediazione e di nuovo sono lo stesso argomento che dicevo prima perché lui cambia idea cioè decida a un certo punto di considerare anche questi altri aspetti e non riesce a dare una sistemazione finale quindi entrerebbero le controtendenze sì sì tutta la cioè nella seconda sì già una parte dove poi insomma c'è anche il discordo sulla contraddizione fondamentale del capitale eccetera eccetera credit capitale fittizio questa è tutta una parte che prevede i problemi di realizzazione e lì quello diciamo che secondo me si può estrapolare come esposizione più coerente anche se è molto frammentare eccetera eccetera è il tentativo di vedere come l'accumulazione reale interagisca con quella fittizia e quindi come questo poi abbia conseguenze sul saggio di interesse eccetera eccetera però di nuovo anche questo è un argomento che di nuovo implica il passaggio attraverso la circolazione sostanzialmente e quindi secondo me la via d'uscita e la ripresa di un dibattito su questi temi non è tanto nel trovare nuovi modi per risolvere la cosa tradizionale perché la cosa tradizionale a mio modo di vedere va a finire dove è già finita non c'è da inventarsi niente di nuovo le possibilità sono quelle secondo me invece appunto si può mostrare partendo dal manoscritto cioè dallo stato non compiuto dell'opera vedere perché ci sono stati questi problemi e la mia risposta a questo è la problematica dei livelli di astrazione lui si trova ad affrontare questa problematica in una maniera che non riesce a risolvere quindi il carattere aporetico della soluzione e quindi possibilità possibilità di risolvere alternativamente questa cosa partendo da merce e denaro e quindi necessario passaggio attraverso la circolazione eccetera eccetera per poi andare avanti quindi come dire senza la pretesa di dire che gli altri hanno sbagliato senza la pretesa di dire che il dibattito tradizionale è tutto sbagliato perché non ci ha capito niente il dibattito tradizionale si è basato su oggettivi dati che si possono estrapolare dalla teoria sempre nel dibattito tradizionale insomma probabilmente è noto prima che uscesse il terzo libro il dibattito era già iniziato su questa problematica ed è Engels per primo che suggerisce un approccio alla problematica che poi è stato quello prevalente nel dibattito storico cioè la soluzione del nono capitolo come luogo principe in cui andare a cercare una risposta a queste domande e poi l'introduzione di una come dire prospettiva storica cioè l'idea di risolvere una contraddizione logica presentando la problematica come una questione di sviluppo storico cioè di considerare sostanzialmente la prima parte del primo libro del capitale come una teoria che funziona in un certo periodo mettendoci l'etichetta produzione mercantile semplice e poi di presentare la teoria dei prezzi di produzione come invece la teoria del capitalismo maturo ma sostanzialmente dicendo che sono alternative sono diciamo storicamente successive e non uno sviluppo teorico della stessa di categorie concatenate insomma questo diciamo poi anche nel dibattito dei critici su Marx è stata considerata la famosa critica della teoria del cancelletto che era di monetarista come si chiama di di no 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 quello di Chicago che dice prima esponiamo come funziona la teoria del valore nel primo libro poi prendiamo un cancelletto la cancelliamo tutta e facciamo quella come dire era completamente sia per sia che la mettiamo storicamente sia che la mettiamo come in coerenza alla fine non serviva niente perché poi alla fine facevamo un'altra cosa avevamo la teoria dei prezzi di produzione sviluppata in maniera diversa invece secondo me in questa impostazione alternativa si può mostrare come sia una relazione logica e come stiano insieme sostanzialmente senza contraddizione va beh si finito allora adesso passiamo a domande interventi prego io vorrei avere da fare domande prego quando ho letto il terzo libro nei miei corsi che il concetto di valore di mercato dipendiva naturalmente dalla la domanda è questa affise è corretta l'osservazione che io avevo feci poi in alto se riesco parere come nel valore di mercato interviene il valore d'uso un strumento di realizzazione perché Marx nel primo libro l'analisi del valore d'uso a un certo punto lo mette nella mercologia mentre studiando effettivamente i valori di mercato nel terzo libro mi ha accorsi almeno nella formazione di un'escrizione nel terzo il valore di mercato dipende dalla quantità di valore così messi nel mercato il valore d'uso viene ad essere strumento di terminazione del valore di tuttura io la mia domanda che le pongo è se questa mia diciamo comprensione coincide con la sua oppure è diversa perché evidentemente c'è non solo una diversa interpretazione rispetto alla prescrizione addirittura anche rispetto al concetto di valore d'uso che marcia poi a parte del primo libro riducendo la sua analisi nell'ambito di esattamente questo però diciamo il primo libro non lo considera proprio perché assume per causa d'astrazione che domande offerta si pareggino e allora io non ho il problema di quanti valori d'uso prodotto perché presumo che per clausola si presume che si realizzino e quindi il problema delle quantità di prodotto è sospeso tra virgolette invece con il valore di mercato questa sospensione è rimossa e si va a vedere come pesi effettivamente nella determinazione di grandezze di valore per però per evitare la critica automatica che viene cioè che si ha quel punto di mercato a determinare le grandezze in realtà Marx come dicevo introduce qui il concetto di standard cioè l'idea che esistano dei livelli in cui più o meno si basino su un equilibrio di domande offerta e a quei livelli le grandezze di valore determinano quindi sì insomma sì penso però mi chiede anche scusate ma anche nella produzione si cerca una diciamo una soluzione al problema quando si delinea quando viene affermato che il prezzo di merito di produzione di merce è determinato dalla produzione di produzione organica media per cui avviene un trasferimento di valore dalla funzione organica inferiore alla composizione organica superiore per cui globalmente la massa di profitto realizzato coincide con la massa di produzione effettivamente quando lei non un decimo capitolo anche il decimo capitolo produce risulta nei prezzi di produzione non è che il decimo capitolo non è un'attività dei prezzi di produzione è una teoria alternativa secondo me quando l'ho letto dico ma qui è un'altra cosa il concetto di valore di mercato è distinto e diverso dal concetto dei prezzi di produzione diciamo la dinamica dei valori di mercato fa sì che alla fine si produca una media delle medie e la media delle medie è il prezzo di produzione che è veramente un valore sociale medio intra extra settoriale però non è lo stesso dato per tutti contemporaneamente è un processo di adeguamento nel tempo eccetera eccetera ma io volevo dire chiedere due cose sui valori di mercato lei parlava prima di realismo essendo tutto realizzato e ho più volume del valore di mercato non se ne parla ma per parlare di valore di mercato tutte le merci potrebbero realizzarsi perché il valore di mercato come l'ho letto io in realtà è che effettivamente diversi capitali producono diverse quantità di valori d'uso e chi produce più valori d'uso impone diciamo che la freccetta della grandezza di valore si sposta maggiormente verso colui che produce più valori d'uso è un po' difficile spiegarlo che ci vorrebbero degli esempi matematici però che non sempre il capitale più produttivo produce più merci e se un capitale meno produttivo produce più merci nonostante che ha meno macchinari però produce una quantità fisica di più merci il valore non è il valore della prima sezione ma si sposta la lancetta verso il valore del produttore diciamo che produce comunque più merci di quantità quindi in quel caso comunque la realizzazione ci sarebbe sempre un valore ad esempio io nella mia lettura ho fatto una decisione se mai non ci realizzo completo posso parlare di prezzo di mercato invece di valore di mercato dal punto di vista linguistico però secondo me ecco nel valore di mercato comunque tutto può essere realizzato è funzionale è il può che è la chiave può ma non può quindi non è detto che tutto quello che è prodotto individualmente privatamente diventi sociale non è detto che anche nel valore certo però nel valore si presume che tutto sia venduto quindi non è può nel capitale in generale non si dice può si dice si realizza si assume che tutto si realizza invece il può implica che si possa o non possa inserire la seconda cosa sui prezzi di produzione in realtà mi sembra che maz lo dia in realtà lo dà all'inizio cardato che si deve arrivare ai prezzi di produzione nel senso che c'è stato un dibattito prima di lui sui prezzi di produzione che lo riprende e cerca secondo me poi di adattare tutto il sistema solo di valore ai prezzi di produzione infatti ogni tanto sarebbe stato meglio in passato riguardare alcuni economisti precedenti a marzo sulla questione come la trattavano anche per avere meno problemi nel capire loro come le calcolavano perché per marzo adesso mi sembra torrens che è un economista per un riferimento sulla questione lui aveva già trovato i prezzi di produzione in modo empirico in modo ingresso alla marzo no ma lui è in mente lui è in mente ricardo cioè che tu sogni ricardo critica perché pensa che le cose non vengono vendute secondo i prezzi di produzione no ma l'idea di fondo è che c'è un profitto medio che si attacca ai costi e ti dà il prezzi di produzione questa è l'idea di fondo che era pregressa diciamo ma nella misura in cui Marx va dietro a questo Marx è il primo neoricardiano della storia perché diciamo se si va dietro a come è impostato il nono capitolo lui cioè i neoricardiani non sono mai inventati niente sono andati dietro legittimamente credo a questa impostazione secondo me è molto problematica cioè per risolverla devi poi creare per risolverla poi arriva alle conclusioni di Stedman per cui o è ridondante o è contraddittoria invece e tra l'altro come dire perde anche di praticità perché non è mica vero che nell'economia reale abbiamo un prezzo di produzione un profitto medio abbiamo una miriade di profitti e di prezzi di valori di mercato che proprio in quanto diversi in quanto danno diversi saggi per profitto implicano poi effettivamente la dinamica della concorrenza quindi voglio dire andando dietro al decimo capitolo secondo me si guadagna anche come dire in utilità insomma in capacità interpretativa effettiva della cittadina però insomma in parte sono d'accordo insomma due o tre domandine una il lavoro socialmente necessario già in parte non intinge anche il numero di ore lavorate ma il lavoro socialmente necessario che dipende dalle tecniche dipende dal fatto che riesco ad arrivare al mercato tecniche sociali meglio che mi sia riconosciuto quel valore l'uso quell'utilità prima questa è la prima cosa la seconda è un usaggio di Rubin sulla teoria del valore in cui elabora tutta la teoria di marzo arriva alla determinazione delle grandesse macroeconomiche non so se è in linea con quello che sta proponendo come lezioni terza cosa è questa la teoria della concorrenza si può dire che è stata sviluppata da competere poi alla fine cioè con il concetto dell'innovazione del grado di monopolio del processo tendenziale che porta però a zero poi i profitti in assenza di innovazione questa è la domanda sì sì il discorso del lavoro socialmente necessario sicuramente implica la socialità fin dall'inizio però questo ripeto non appare immediatamente perché se si assume che tutto si realizzi passa di mente diciamo perché uno pensa che ex ante sia già ex post e quindi questo secondo me ha veramente influenzato una cattiva interpretazione del dibattito però quindi sì anche tutto il problema della riduzione del lavoro complessa al lavoro semplice l'idea che dobbiamo trovare un modo di calcolo ex ante per farlo lo fa il mercato c'è un passaggio che finisce solo nell'edizione francese che Marx aveva scritto per il primo capitolo in cui dice questa riduzione avviene tutti i giorni sul mercato quindi è molto crystal clear ora le altre questioni sarebbero molto complesse insomma meriterebbero diciamo quasi una conferenza a sé diciamo con Rubin in parte sì in parte no ci sono degli stinguo e lo stesso direi con Schumpeter però insomma sarebbe un discorso che ci porterebbe lontano però diciamo una delle cose che secondo me in questa maniera si può fare è veramente vedere come il dibattito come si possano digerire tra virgolette contributi successivi in una prospettiva molto più aperta rispetto a come è impostato tradizionalmente però poi un'ultima cosa cioè il discorso della concorrenza no concorrenza in realtà porta a zero la libera concorrenza diciamo il discorso anche la dinamica della concorrenza ma a livello puramente teorico diciamo nella teoria di Marx la concorrenza avviene poi effettivamente a un livello più concreto nella teoria del ciclo quindi andrebbe ricontestualizzata in quell'ambito lì quindi accumulazione distruzione ripartenza questi livelli di standard sono standard nella dinamica complessa del ciclo e che quindi si determina anche come grandezze anche includendo i cataclismi della crisi della sì io vorrei portare queste considerazioni nell'ambito della ricezione ai discorsi di Marx nei marxismi del novecento perché la soluzione che ti propone sembrerebbe un po' l'uovo di polombo ma finché e allora sorge spontanea la domanda ma perché non ci sono arrivati gli altri perché così tanti per così tanto tempo e allora avanzo qualche considerazione in proposito intanto sicuramente è giusta l'osservazione che faceva il signore ieri che il trentennio staliniano aveva posto una di fatto un non luogo procedere per cui c'era un problema politico però sia pure con ambiguità non in completa discontinuità con l'ortodossia dei partiti comunisti speciali dopo il 56 perlomeno un grande dibattito si era avviato e quello che mi sembra interessante è il non detto che sta dietro la non risoluzione del problema in particolare conoscenza che vado regolarmente a battere lì ma non ho ancora sentito dire l'esempio di colletti per cui l'impossibilità di dimostrare matematicamente la conversione dei valori in prezzo diventa la prova che il marxismo non è scienza del presupposto per l'abbandono anche politico della militanza perché questa sembrerebbe una prova evidente di quella che Costanzo Preve chiamava il riorientamento gestaltico quando si vede qualcosa non più come quel qualcosa ma come qualcos'altro per cui andava bene Marx visto in un certo modo ma se poi non si riesce più a vederlo attraverso la lente dell'esattezza scientifica se vogliamo usare le espressioni della Volpe che è il collettivo maestro il galileismo morale cioè quello per cui quello che viene detto deve essere dimostrato allora sorge il problema con quali strumenti deve essere dimostrato allora cade tutto l'edificio secondo aspetto torno indietro rispetto al Novecento la ricezione di Marx presso Engels perché verrebbe il dubbio che a questo punto forse Engels avrebbe fatto meglio a intervenire in modo più deciso sui manoscritti per esempio scegliendo di pubblicare un testo che includesse il decimo capitolo e non il nono ora questo anche credo ponga dei problemi di ricezione e di come si trasforma la ricezione addirittura nello stesso Engels io ricordo aver letto un articolo di Bacchus in italiano fu tradotto sulla rivista Mars 101 una trentina di anni fa in cui andava proprio a mettere il dito sulle diverse prefazioni alle diverse dizioni del capitale dimostrando che si passava lo stesso Engels difendeva il metodo cosiddetto logico e poi nella prefazione successiva passa invece al metodo cosiddetto logico storico cioè dimentica sembrerebbe dire la recensione per la critica dell'economia politica non la prefazione sembrerebbe come voler dire Marx è morto non ha più quel contatto così e dimentica vent'anni dopo quello che sapeva già vent'anni prima questo però non si può ascrivere soltanto al fatto che Engels magari quando pubblica il terzo libro nel 94 quindi Marx è morto da 11 anni non ha più quel contatto con Marx oppure che si sta un po' rincognonendo ma non detto forse più un problema di committenza politica da parte della socialdemocrazia tedesca oppure qualcos'altro su cui vorreste dire dunque diciamo partendo da Engels Engels questa recensione del logico storico questo discorso del logico storico lo mette sul tavolo se non ricordo male la recensione per la critica l'economia politica quindi Marx l'ha visto secondo me allora non faceva così tanta specie come ha fatto poi successivamente nel dibattito perché non lo so diciamo se va bene però poi insiste anche per esempio anche quando Marx scrive la famosa postfazione per i non dialettici Engels anche lì suggerisce fai una cosa più storica fai una cosa più e lui invece non la fa insomma fa comunque una cosa Engels secondo me ha delle responsabilità nella ricezione di come è stato recepito proprio il problema di trasformazione perché lui per primo l'ha inteso nei termini del nono capitolo principalmente cioè quando spiega ora non mi ricordo se nella prefazione al terzo libro o in un altro passaggio però insomma scrive proprio letteralmente che si vedrà o si vede insomma finalmente che la soluzione sta nella somma e divisione cioè lui sponsorizza per primo la soluzione del nono capitolo da una parte e dall'altra sponsorizza questa lettura storicistica traviso storicistica no non è corretto di periodo che le due parti della teoria appartengano a due periodi storici quindi diciamo perché probabilmente l'ha intesa così lui ha inteso il testo di Marx in questa maniera e e l'ha indirizzato in quella maniera lì ma quindi questo è secondo me un elemento del dibattito perché il dibattito tradizionale si è concentrato più sul nono che sul decimo perché Engels era il riflettore e l'ha acceso lì sopra ma il riflettore in realtà era già acceso lì sopra perché quest'idea di un profitto medio da sommare costi di produzione quest'idea della somma della somma dei costi è l'idea che c'è in Smith che c'è in Riccardo è come era impostata tradizionalmente e quindi come dire l'orecchio dell'economista era sensibile più a questo tipo di approccio piuttosto che un approccio dove c'è la forma di valore che è il polo in forma di equivalente che va a funzionare insomma tutte le arzigogolerie arzigogolerie hegeliane probabilmente all'orecchio di uno studioso cresciuto in un terreno economico sicuramente suonavano meno familiari rispetto a questo tipo addirittura prego però possiamo dire che una lettura perlomeno simpatetica col paradigma evoluzionistico che stava prendendo quella di Engels eh sì quello di Engels sì sì probabilmente ora io non mi sbilancierei così tanto però insomma sicuramente reminescente di ma l'altro problema è che Engels proprio per i legami che aveva con la socialdemocrazia tedesca stava inevitabilmente utilizzando proponendo la pubblicazione di questo testo anche come un successo politico cioè come e quindi pubblicare un testo incompleto aporetico che tra l'altro era aporetico rispetto a critiche già formulate prima che uscisse il testo doveva rispondere cioè il testo che usciva doveva come dire sciogliere i nodi e quindi doveva essere finale sostanzialmente tutto questo secondo me ha contribuito a quella piega là però ripeto nel dibattito tradizionale perlomeno in quello prevalente il decimo capitolo veramente non esiste è rimosso completamente quindi come dire come come io riconosco che è possibile andare in quella direzione non si può non riconoscere che si può andare nell'altra che altro non sto rispondendo sì chiaramente però se si va nella direzione che dico io secondo il tentativo è di dimostrare che funziona scientificamente cioè nel senso che funziona in virtù cioè è legittimo utilizzarlo in virtù del fatto che è coerente che quindi d'altra parte secondo me si può anche capire che come dire se questa ideologia questo grande movimento politico è basato su il valore scientifico di un'opera che poi alla fine risulta essere contraddittoria cosa che io non penso però diciamo facendo il ragionamento dall'altra parte insomma perché è così legittimo abbandonarla alla fine cioè se non funziona perché dovrei alla fine fossilizzarmi su io secondo me entro pur considerando tutti i limiti che ho detto funziona quindi è legittimo cercare di andare avanti insomma d'altra parte non è l'orgascienza la fisica si muove sui due binari conciliati che non sono quantistiche si vado a dire un discorso più discreto e continuo oppure quando fisico tra l'altro empiricamente c'è già ampiamente dimostrato che la legge della caduta del senso geoportico è confermata per tutti insomma non potremmo l'espessore che hanno analizzato il discorso del primo mondiale dimostrando come la legge neganti cicli neganti cicli la legge della capitudine tendenza è più profonda e anche non so che c'è ma guarda sì dunque io mi chiedevo invece se l'approccio di Vygotsky nella sua introduzione di Rumpris fosse stato venuto in considerazione anche da lei da lì vengo c'è un tempo più di deturre proprio dal valore anche le categorie più da lì vengo e poi mi chiede un'altra cosa se fosse a conoscenza della critica del valore un approccio che si è sviluppato alla fine degli anni 80 in Germania con Kurtz e Norbert Trenkler che sono molto vicini a questo tipo di considerazione cioè diciamo così selezionare da questa massa eterogenea del volo di Marx è quello che serve a tenere in piedi l'aspetto più scientifico quindi che consente di partendo dal valore della produzione arrivare anche ai livelli più superficiali senza contraddizioni lo segniamo grazie grazie mi chiedo se veramente è produttivo cercare di trovare di un'applicazione così minuta e precisa scientifica di quella che a questo punto si rivederebbe in economia in scienza economica marziale mentre il progetto scientifico di Marx è di fare una critica dell'economia ora l'economia politica in quegli anni era era in un ambito di profonda rivoluzione perché Marx costruisce il primo libro degli economisti classici il quale aveva formulato un'economia politica come scienza di governo come una scienza che doveva fornire al principio strumenti per governare la società Marx dice a partire da questo io dimostro che la società è ingovernabile perché dentro una contraddizione per semplicità in quegli anni sta maturando la rivoluzione marginalistica che sono i primi segni nel carrivo di concorrenza diventa una nuova scienza di governo che affida al mercato la regolazione di tutti i processi di cui poi questa economia nasce in quegli anni l'economia politica moderna è quella che oggi viene implicata come la mainstream neoclassica marginalistica come la L'Avania che è una scienza che è arrivata di vera di sostituzione enorme nella determinazione dei prezzi di produzione dei prezzi discriminatori dei prezzi della concorrenza monopolistica cioè tutta una serie di regimi di competitività di contendibilità eccetera allora se uno volesse riprendere il programma marziale non come le prime formulazioni di un Marx che cercava di diventare economista per reggere le obiezioni che gli venivano dalla realtà concreta di prendere il suo come dire progetto fondamentale cioè dire come in base all'idea di dover criticare l'economia politica che dire che l'economia politica non è una scienza esatta ma è un sistema di regolazione di una società che per una parte della società è nemica il caso operare o comunque chi non ha il potere uno sistema di allora per capire questo bisognerebbe confrontarsi e smontare o distruggere i fondamenti l'autoconsistenza dell'economia politica attuale ad esempio mi è molto colpito dopo la crisi l'esplosione della crisi del 2007 che gli economisti sono riuniti a Trento a dire cosa non abbiamo capito e la formulazione è stata no non abbiamo previsto niente perché certo tutti avevano previsto che c'erano delle contraddizioni che rischiavano di diventare esplosive ma il nostro compito non è solo questo il nostro compito è trovare la medicina allora nella scienza è previsto è contenuto un motivo volontaristico un progetto una parzialità che è determinante e fondamentale allora la critica della politica voleva dire appunto cercare di studiare l'economia non dal punto di vista del suo funzionamento ottimale dal punto di vista del suo non funzionamento e magari delle occasioni per distruggere la politica quindi voglio dire ha senso tutto questo ragionamento di valori allora secondo me sì perché diciamo dire che il progetto di Marx è la critica dell'economia politica è vero ma è parziale perché in realtà Marx a un certo punto dice questo sarà il sottotitolo il titolo è il capitale quindi Marx sviluppa una teoria economica non una critica cioè che implicitamente sarà una critica ma sul fatto che lui sviluppi la sua teoria del capitale secondo me non ci sono molti dubbi questo gli servirà per fare la critica ma non è che pone degli argomenti sul tavolo solo per criticare gli altri che sono funzionali a questa critica secondo me questo è proprio chiaramente esplicitato nel passaggio a critica dell'economia politica sottotitolo il capitale con il titolo proprio per questo motivo e proprio perché secondo me le conseguenze di carattere generale di lunghissimo periodo che questa elaborazione permette di formulare sostanzialmente sono molto veritiere la mondializzazione l'aumento vertiginoso della produttività del lavoro diciamo sono tutte previsioni di lungo periodo che questa teoria ha effettivamente spiegato e quindi secondo me ha senso cercare di vedere chiaramente lei ha perfettamente ragione nel dire che quello che è avvenuto dopo è estremamente sofisticato però vedere in che misura come dire la critica di questa nuova economia politica sia digeribile tra virgolette in questo sistema perché questo sistema secondo me ancora oggi fornisce uno strumento di conoscenza efficace questo insomma almeno come la vedo io poi chiaramente liberissimi di fare altrimenti io volevo fare una domanda per sapere cosa ne pensavi rispetto a un tema che non è molto poco preso in considerazione in marzo che è il concetto di tempo perché se io penso alla teoria della trasformazione dei valori in prezzi in realtà lui scivola da una concezione che c'è nel primo libro del capitale che gli stampo ontologico metafisico del tempo ha un'accezione che ricorda molto come sappiamo quella ricardiana cioè un a priori cantiano dove poi non so Sraffa Morissima Stilman quella accezione lì gli economisti se lui dovesse prendere dentro bene la concorrenza il credito e la rendita il tempo diventa una categoria invece epistemologica cioè tre modalità completamente diverse lui tenuto conto che l'ha scritto prima e quindi era molto condizionato ma non è un caso per esempio nel Bruno Gris secondo me la concezione del tempo è identica a quella del primo libro del capitale ma perché capitale in generale quindi c'è questa cosa della concezione del tempo che dentro all'eroginuso che lui fa delle categorie scivola una concezione centrale in marzo dove si è scritto pochissimo riguardo però mi sembra che nel decimo capitolo e nella teoria del ciclo il tempo non c'è il tempo c'è la dinamica c'è la dinamica temporale che vuol dire una categoria di stampo epistemologico che parte dal soggetto io diciamo questa secondo me nella mia prospettiva si spiega come passaggio da un livello di astrazione quindi si se lo facciamo se lo facciamo si una piccola precisazione su Newton Freeman dedicava una parte dei suoi corsi a smontare Marx oppure ha scritto queste sue verifiche la tua parte Freeman la tria del cancelletto ora proprio da dove venga di preciso non lo so onestamente o quantomeno non mi ricordo però insomma è famosa viene sempre in aneddotica diciamo dentro a un libro tradotto anche in italiano di saggi di Newton Freeman quello dei saggi non quello molto noto sulla libertà il capitalismo e la libertà è dentro un volume di saggi tradotti da Lilley grazie forse c'era prima un po' si un po' si insomma si però più forte perché se no lo sento quando si dice che con Marx è possibile anche moderne finanze anzuzione cosa può dire sui investimenti e finanziamenti contratti so ma si penso che questo l'ultimo parte ah diciamo quello che io penso di questa parte finale del credit capitale fittizio è che come dire sia un'apertura coerente con più o meno coerente insomma con l'impianto generale sulla base sulla base del quale affrontare tutte le complesse questioni legate al capitale finanziario che sono venute dopo e che nella formulazione del manoscritto del terzo libro sono embrionali sono come dire abbozzate quindi non si dice tanto ecco questo è il punto però secondo me se come dire abbiamo questa impostazione ci si può lavorare si può cercare di digerire tra virgolette cioè di considerare gli sviluppi successivi per vedere poi non è detto che sia possibile insomma per vedere se si possono come dire sistemare in maniera coerente con una teoria più complessa del modo di produzione capitalistica quindi diciamo continuare il lavoro di Marx lì sono embrionali sono concetti embrionali che quindi non poi c'è tu vengono sì non è non è particolarmente originale dobbiamo fare domande sui polacchi perché non c'è niente no non c'è polacchi ma promesso è solo la cosa che mi chiede come dire beh giusto per capire se ho colto la tua argomentazione mi sembra che non c'è la tua argomentazione sia dire il problema della trasformazione del valore in prezzi non lo risolviamo se non scendiamo di livello di astrazione cioè se rimaniamo la sua storia di astrazione c'è effettivamente una contraddizione ma nella teoria marxiana non c'è perché per la trasformazione del valore in prezzi abbiamo bisogno di inserire una serie di aspetti diciamo stori non stori ma fenomenici che non troviamo a livello della struttura logica del capitale no no è comunque logica secondo me secondo te è comunque sì perché diciamo che i capitali siano in competizione fa parte del concetto di capitale ok ok però diciamo mi chiedevano comunque se è a quindi a questo secondo livello di astrazione inferiore che poi inizia può iniziarsi a inceppare la macchina cioè è lì diciamo che appunto c'è la tendenza del seggiore profitto che possiamo avere una teoria anche di quando le cose non vanno bene in parte sì però in realtà poi più avanti avremo che ne so banche capitale commerciale capitale industriale avremo la singolarizzazione non solo diciamo nella concorrenza tu hai sempre in teoria insomma singoli capitali in teoria identici che competono invece andando ancora più avanti avrai capitale industriale capitale bancario capitale commerciale quindi la cosa ma non a caso il capitolo classe è l'ultimo di tutto il libro quindi diciamo il problema del conflitto è laggiù in fondo nel senso cioè alla luce di tutta questa ricchezza categoriale che si pone come un problema diciamo praticabile però diciamo comunque questo livello retroagisce sul livello di situazione superiore per esempio rispetto alla questione del presupposto posto della capacità appunto di riprodurre i presupposti cioè diciamo l'idea che ci sia il capitale in generale tu hai un profitto medio in astratto perché nella concorrenza fai vedere come questo che in realtà assumevi sia prodotto dal sistema stesso un'ultima cosa mi veniva in mente che altro una suggestione ad esempio rispetto alla questione proseguire il lavoro di Marx il lavoro per esempio di carattere storico di Arrigli il lungo ventesimo settore può andare in questa direzione in cui se non ricordo male insomma lui diciamo parla a un certo punto della questione che gli aspetti legati alla finanziarizzazione intervengono proprio quando la concorrenza chiaramente rende complesso realizzare il profitto medio quindi diciamo a un certo livello di maturità si passa al ciclo denaro-denaro e quello però implica poi una crisi di quel ciclo di quella fase di accumulazione nel passo già una fase superiore quindi dal modello olandese con l'inglese che incorpora gli aspetti militari poi con lo statunitente che incorpora la produzione può essere diciamo c'è una grande distanza nel senso non teorica secondo me la teoria di Marx è molto astratta proprio molto molto astratta cioè parla della dimensione epocale proprio di tendenze di lunghissimo periodo ed è incompiuta il famoso programma dei sei libri ci doveva essere lo stato il commercio internazionale come dire è molto potente secondo me è molto potente perché a distanza di cento anni e più per metro veramente molte tendenze di lungo periodo lui le aveva previste però d'altra parte è molto astratta colmare la distanza tra questo rarefatto mondo dell'astrazione al discorso di quelli arrivi questo non voglio dire di nuovo voglio dire che diciamo per come l'ho studiato io le teorie cuscinetto necessarie sono varie insomma potrebbe ancora scendere al salto bene se non ci sono più domande o interventi possiamo chiudere allora ci vediamo quindi giovedì 19 maggio alle ore 21 sempre qui in libreria comunale grazie 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 a tutti